Però devo dire che qui c'è qualcosa di molto prezioso, un papiro, abbiamo premiato grazie al Presidente Bonadini, ma qui c'è un premio molto importante che viene dall'Egitto. Mi dispiace che la Presidente Manal Serri non è potuta venire a fare i suoi saluti per motivi di lavoro, perché lei spesso deve andare in Egitto, quindi non può dire mi prendo un giorno altro di lavoro, non gliel'hanno concesso. E anche la Vice Presidente Flora Lucco, che saluto e sono molto grata per il suo impegno di un anno di lavoro con Chiara, in questa casa di cultura che ha fatto conoscere altri artisti, perché non sta bene e ha un marito all'ospedale. Lei deve fare le veci dei figli, quindi porto anche i suoi saluti. L'associazione internazionale si chiama Ibitrat Peace, di cui mi faccio parte del produttivo, quindi rappresento anche l'Ibitrat. E sono orgogliosa di fare anche una foto insieme a Gomo Mancini, perché la Presidente Manal Serri, insieme all'autorità egiziana, scriverà un articolo anche in Egitto di questa remissione. E' molto importante questo incontro, si deve farlo anche in Egitto, è stata fatta in Egitto questa remissione. Quindi posso leggere... Certificando di apprezzamento. L'associazione Nilo, Cusur, l'Accademia di Creatività, la Fondazione Ibitrat Peace, il canale televisivo del Turismoa, Ciof, Egitto, hanno il piacere di lasciare questo certificato, che rende le stimonianze e la nostra sincera creditudine al Presidente Dottor Bruno Mancini per la sua carriera e la sua collaborazione con la comunità egiziana e comunità araba. E' stato presentato anche all'ambasciata qui a Roma, l'ambasciata egiziana. Io per motivi di familiare non so dove stare. Oggi questo premio, così ambito, molto prezioso per la comunità egiziana, perché Manassehri è una grande operatrice internazionale dell'Egitto, e scriverà questo articolo. Cosa possiamo dire, Presidente Dottor Bruno? Posso solamente ringraziare e dire che non ne sapevo niente. Senza parola, perché non so niente per parlare di un discorsetto, sai ciò come è bene un reggito per il quale io sto facendo le cose per gli altri. Non ce l'ho su discorsi da parlare, poi non so neanche parlare, perché sono un scrittore, non sono un parlatore. Grazie. E' un piacere collaborare con il Presidente Giulio Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari Presidenti, tra cui Cecilia Salagius, l'Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Manassehri, Egitto, Perù, Aide Gutierrez. Quindi col Presidente alla Sponda ci abbiamo qui l'onore della Grande Roma e il Dottor Benito Corradini.